Roma è un'importante meta turistica, però noi siamo andati in giro tra ristoranti e alberghi per capire come ha influito su questa importante fonte dell'economia cittadina la notizia di una possibile interruzione del servizio di acqua potabile. Sentiamo cosa ci hanno risposto. E' moltissimo, anche perché un'attività come un ristorante, togliere l'acqua, credo che ci penalizza moltissimo, anche perché dovremmo chiudere. Voi avete pensato a fare un accumulo di acqua? E' un po' impensabile, perché comunque fare un accumulo di acqua per un locale che ne usa tantissima, non è che qualche litro risolve il problema. La notizia della possibile interruzione dell'acqua ha avuto delle conseguenze sulla sua attività? Per il momento ancora no, probabilmente lo avrà sul turismo perché ovviamente l'uscita di queste notizie può provocare poi un blocco da parte di turisti che scelgono magari all'ultimo momento di venire a Roma e si dirigono da altre parti. Lei taglia la barba, se le tagliano l'acqua che fa? Chiudo il negozio? Certo sono preoccupato, anche perché le cose non è che vanno molto bene. Calato un po' di lavoro, questa interruzione. Oltre al lavoro che cala, cala pure l'acqua, piove sul bagnato. Bravo, piove sul bagnato. All'inizio di questa crisi idrica romana si era pensato di interrompere l'acqua dei nasoni, queste fontanelle tipiche di Roma. Questo qui è particolare perché proprio dispone di un rubinetto, come vedete, che si può aprire e chiudere. Ma in realtà questi nasoni consumano l'1% dell'acqua che circola nella rete romana. Rete che invece perde, disperde, spreca oltre il 40% dell'acqua potabile che gli viene immessa dentro. E per il momento è tutto. Linea allo studio.